Ciao a tutti ragazzi, io sono Xgenesis e sono ancora qui in compagnia di TheGerman su Overwatch. Buongiorno a tutti. Siamo qui per fare schifo ancora una volta, che poi in realtà non abbiamo fatto schifo. Per il terzo episodio di fila. Io nell'ultima partita non ho fatto schifo, non è l'ultima partita, non è l'ultima partita. Io per una volta ho preso un personaggio sul posto, e di solito non ne prendo, perchè non mi piacciono. Questo è sempre lo stesso, perchè ho provato a usare a Widowmaker e l'ho fatto cagare al cazzo. Dai, ti copro! E con l'entai gay, e con l'entai lei che forse era strano. Dai, ti aumento l'attacco e ti curo, un po' forte sono. Infatti questo l'ho ucciso, bitch. Mannaggia, però coprimi, cazzo. Dall'inflitto di colpo. Perfetto, siamo troppo forti. Mannaggia, ti ho perso l'obiettivo, vai, ti copro, vai, vai, spara, vai che ti sto cercando di tenere in via, madonna che sincro. No, resisti, resisti! Dietro di te! Ah! Vaffanculo, cacassi! Aspetti, resuscito, vai! Che cosa mi fai? Perchè mi è resuscitato per farmi morire? Sei morto! Però... Ah, ci sono, ci sono un cecchino che rompe le palle! Ti vengo a curare! L'ultimo dei colpi! L'ultimo dei colpi! L'ultimo dei colpi! Ben cavolo, bastardo! Vieni qua tu che ti curo, dove vai? Mamma mia, ma lo è, dico, questo! Uddio! Mi preparò, mi preparò la, mi preparò la ultra, dov'è? Dai! Che l'arma non fa tutto sto danno, non ne fa poco, ma non ne fa neanche tanto, e poi lo ne ha rotto il culo. Facciamo che lasciamo stare i personaggi di supporto, visto che non li so usare, e proviamo con un personaggio di difesa, come Bastion. Abbiamo Bastion che si fa una spalla, così diventa una spalla, così diventa una spalla. Bastion! Bastion! Mi aggiungo! Mi aggiungo! Ok, mi sai che abbiamo perso una... Eh, vaffanculo! Eh che falle però, di nuovo! Perché quando giochiamo da soli vinciamo sempre, così non vinciamo sempre! Sì, vinciamo sempre, non dire bugie! Solo perché c'è il cubico! Troppi eroi da difesa! Eh va bene, allora io mi riprendo D.Va che non ci trovo bene! Ah, ma XGN si stava usando D.Va invece di B.Pion! Ma che è? Sono un mech! Mecha! Ma sei un mech con una cosa dentro! Ma sei un mech rosa! Ma infatti se ci fai caso, quando io muoio, praticamente la persona che c'è dentro il mech, ovvero D.Va, esce, e io ho un'altra possibilità. Poi la mia ultra è che praticamente io posso richiamare il mech, se tu riesci a gestirti bene sei immortale! Ma non ci trovo bene questo personaggio! E questo! Devo provare con tutti! Che cazzo ci succede? Da dove? Da qua! Da qua! Da qua! Guarda, guarda! Vedi che sono... Vedi che sono ancora vivo! Perché palle però io no! Ahahahah! Non è giusto! Non è giusto! Non è giusto! Dietro! Abbiamo conquistato, abbiamo conquistato! Scappa, scappa, scappa! Scappa! Madonna! Saffanculo! Tagashi! Tagashi! Ah, ci stanno riconquistando! Che palle! Ah! Nooo! Il mio mech! La cura, la cura, la cura! Nooo! 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 Da! Datta Ч lado, che dogg 이�itato! Nooo! Che stanno recuperando Nooo! Ho sbagliato! Ok! Non me la preso! C'è la cazzo di torretta! C'è la cazzo di torretta! Sei la cazzo di torretta! Cosa combina adesso, Armon Voglio che gloriano? Vado adesso cosa combino? Adesso faccio tipo una tattica troppo forte Eh che cazzo però affamico Dai esplodi 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 Non è esploso è esploso Cazzo se è esploso dribla Dribbla che cazzo sei? Maradona Ho detto dribla Abbiamo vinto Sì esatto Ficca quasi Guarda quello che schimfica che c'è di basti Va bene ragazzi Direi che questo episodio che è durato Leggermente di meno è tutto Ci vediamo in un prossimo video Ricordiamo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto E di iscrivervi al canale se volete vedere altri video del genere Qui da XGenesis è tutto Ci vediamo in un prossimo video e ciao 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 E io non devo salutare bastardo Ciao 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 ciao